Ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con le video recensioni. Oggi vi mostriamo il ferro da stiro Imetec No Stop Professional Eco, un prodotto in fascia media che vedremo anche all'opera nella seconda parte di questa video recensione. Se poi dopo averla vista vorrete acquistare il prodotto potete cliccare nel link che trovate nella descrizione del video e procedere. Quando acquistate un ferro da stiro ci sono cinque fattori che dovete tenere in considerazione. Sono la struttura, alcune caratteristiche legate al vapore, i dati relativi all'acqua, la potenza e i consumi del ferro da stiro e infine le caratteristiche della piastra. Adesso andiamo a vedere questi cinque fattori uno per uno. Abbiamo detto che il primo fattore da considerare è quello relativo alla struttura. Questo ferro da stiro è un ferro a caldaia e il solo ferro pesa poco più di un chilo quindi abbastanza leggero. Altri elementi strutturali che segnaliamo sono la mancanza di piedini antiscivolo che rendono questa base non estremamente stabile e il fatto che manca un sistema di bloccaggio della piastra. Ci sono tuttavia dei supporti antiscivolo che le impediscono di scivolare. Il cavo tiltante è lungo circa 170 centimetri, manca però un sistema avvolgicavo. L'impugnatura invece è in plastica e non è rivestita di materiale antiscivolo né antisudore. Il secondo fattore è quello relativo al vapore. Diciamo intanto che questa caldaia, la caldaia di questo ferro da stiro, genera una pressione di 5 bar, un valore nella media che permette l'erogazione di 120 grammi al minuto di vapore in modalità continua che viene attivata cliccando tre volte il grilletto di attivazione e un colpo vapore di 260 grammi al minuto. Il colpo vapore viene attivato cliccando una sola volta il tasto. Con questo ferro da stiro è anche possibile erogare vapore in modalità verticale. Il terzo fattore è quello relativo all'acqua. La capienza della caldaia di questo ferro da stiro è di un litro e mezzo e offre la possibilità di effettuare un rabbocco continuo per cui offre un'autonomia virtualmente illimitata. Un'altra cosa che vogliamo segnalare è il fatto che questo ferro da stiro dispone del sistema di pulizia della caldaia CalcClean, un sistema che permette appunto di svuotare il calcare residuo presente nella caldaia in modo da mantenere inalterate nel tempo le prestazioni del ferro da stiro e allo stesso tempo di assicurare una maggiore longevità. Il quarto fattore è quello che riguarda potenza e consumi. L'assorbimento di questo ferro da stiro è di 2300 watt, un buon valore che promette tempi brevissimi di riscaldamento e di preparazione del vapore. Questo ferro da stiro dispone anche di funzione eco che garantisce un risparmio del 25% sui consumi. Bisogna anche segnalare però che quando la funzione eco è attivata ci sarà una minore erogazione di vapore. Il quinto fattore è quello relativo alla piastra. La piastra di questo ferro da stiro è in acciaio inox, un materiale che non richiede nessuna particolare manutenzione. È lunga 21 centimetri e mezzo e larga 12 nel suo punto di massima larghezza. I fori sono molto importanti. Questa piastra dispone di fori lungo tutto il suo perimetro e la maggiore concentrazione la troviamo qui alla base e sulla punta. A proposito della punta diciamo che non è molto sottile e potrebbe fare un po' di fatica magari nella stiratura delle camice, quei capi che dispongono di molti bottoni e necessitano di una maggiore precisione. Vediamo finalmente il nostro ferro da stiro in azione e cominciamo stirando questa polo di cotone. Adesso vedremo il ferro in azione con una camicia di cotone con tanti bottoni. vediamo invece come si comporta questo ferro da stiro sui jeans. adesso vediamo il ferro da stiro in azione su un maglione di lana. questi sono i risultati che abbiamo ottenuto. da quello che è emerso nella nostra prova pratica possiamo dire che l'IMETEC non stop professional eco sia un ferro da stiro efficace in grado di erogare tanto vapore, facile da usare grazie ai comandi intuitivi, molto pratico soprattutto per via della possibilità di effettuare un rabbocco continuo e d'altra parte abbiamo notato che ha una base poco stabile e un grip di plastica che non ci ha soddisfatto del tutto non essendo antiscivolo né antisudore. d'altra parte possiamo dire anche che vista la fascia di prezzi in cui è venduto questo prodotto sono caratteristiche più che comprensibili. consigliamo assolutamente questo ferro da stiro a famiglie che hanno magari tanti capi da stirare e un budget relativamente limitato. se questa video recensione vi è piaciuta potete iscrivervi al nostro canale e seguire le recensioni che pubblichiamo settimanalmente cliccando sul tasto iscriviti qui in basso a sinistra se invece volete procedere all'acquisto di questo ferro da stiro potete cliccare il link all'offerta che trovate nella descrizione del video grazie per averci seguiti alla prossima